Ieri c'è stata una lunga riunione su fronte dei rifiuti, c'era questa possibilità di sciopero dei dipendenti a SIA, è rientrato? In queste ore si fanno riunioni una dietro l'altra, stiamo risolvendo bene la questione Net Service ABC, ieri mattina abbiamo fatto un'ottima riunione su ANM e ieri cinque ore di confronto con i confederali e le RSU di Asia che avevano proclamato uno sciopero, ieri sera si è chiuso un verbale molto buono, io ho partecipato a quasi tutte le cinque ore di discussione, infatti c'è anche la mia firma, sono state revocate tutte le assemblee e lo sciopero e inizia una nuova fase nell'azienda di gine urbana della nostra città, che vuole diventare sempre di più un modello di servizio pubblico nel settore su cui Napoli nel passato, prima che arrivassimo noi, ha sofferto in una maniera incredibile. Io sono davvero orgoglioso di questa azienda, del management, delle lavoratrici e dei lavoratori, perché ho percepito questa voglia tutti di fare squadra, di migliorare alcune cose che non andavano, perché c'era una tensione sindacale, una tensione forte tra lavoratori e vertici dell'azienda, si è lavorato molto bene, mi sono posto come garante anche, andando pure un po' certe volte oltre da quello che è il mio ruolo principale di vertice dell'amministrazione, ma siccome tengo tanto alla dignità e alla serenità dei lavoratori, oltre che all'efficacia, al potenziamento e alla qualità dei servizi, faremo ogni mese una riunione anche con me per verificare se gli impegni presi da parte di tutti vengono rispettati. Quindi davvero è stato un risultato molto importante, perché ieri sera sul Tardi abbiamo chiuso questo accordo che avrebbe altrimenti creato dei danni notevoli alla nostra città, perché uno sciopero più una giornata di assemblee significava comunque degli effetti negativi sulla nostra città. Quindi gratitudine a tutti quelli che hanno lavorato per questo obiettivo e un sincero ringraziamento ai lavoratori e alle lavoratrici di Asia, che in condizioni davvero difficili, con un'età media, perché il governo non ci consente di assumere, un'età media che oltre i 60 anni fanno un lavoro enorme che anche grazie a loro Napoli oggi è prima per cultura e turismo in Italia. Ci auguriamo che adesso finisca la fase della propaganda elettorale da parte di chi siede a Roma e cominciassero a fare qualche norma che finalmente consente di assumere poliziotti, forze dell'ordine, infermieri e medici negli ospedali, bloccare il turnover e consentire a noi che puntiamo con un servizio pubblico dalle mani pulite di assumere che se hai un'età media di quasi 65 anni nell'azienda che deve raccogliere i rifiuti, un lavoro anche usurante e pesante, penso che chiunque capisce che diventa difficile poter andare sempre avanti bene.